Il talento di 14 donne in favore del Calcit. Il binomio musica e solidarietà continua ad essere vincente e sarà il protagonista dell'evento promosso dalla FIDAPA per amore delle donne che si terrà al teatro Tenda venerdì 1 aprile alle 21.30. Abbiamo pensato, visto che il tema di FIDAPA nazionale di quest'anno è la valorizzazione del talento delle donne e il favorire il fare rete fra le donne, allora abbiamo fatto una voce a tutte le cantanti e ad alcune attrici che avranno il palco a disposizione proprio per far vedere quanto talento ci sia nella nostra terra. Spesso siamo un po' esterofili, invece bisogna cominciare diciamo da quello che abbiamo. Quindi FIDAPA ha organizzato tutto questo per devolvere appunto il ricavato al servizio lo scudo del Calcit che segue a casa i malati terminali, quindi ci sembrava un'ottima occasione per coniugare le due cose. Talento e solidarietà è questo il connubio vincente. Talento e solidarietà e soprattutto mettere insieme le donne fra di loro. Non c'è stata nei secoli molta solidarietà fra le donne, allora c'è bisogno di promuovere tutto questo, per noi era una missione importante. È un grande evento rivolto tutta la cittadinanza, già tanti biglietti sono stati venduti ma tanti verranno venduti anche il primo aprile, prima dell'evento. Ringrazio personalmente FIDAPA per questa grande manifestazione di solidarietà e vi invitiamo numerosi per riempire il teatro Tenda.